è chiaro che dovete metterli d'accordo con il compagno perché ci saranno delle fasi in cui è più preposto da attaccare i secondi delle fasi no ad esempio per alcuni sarà più facile falleggiare di là di seconda tipo l'angelini ad esempio per altri saltare attaccando quindi ragioniamo di conseguenza con il compagno c'è due Dessa Dessa si attrae anche il mio errore lì non abbassare il braccio non è che la porta per spostare il calcio guarda 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 no c'eva tutto il campo se palleggiare poi il pallone è rimbalzato sui luci ti resta qui ma che fette di questa cosa questo per lì dov'è perfetto dopo il secondo si spalla più vicina sulla diagonale per avere il conto una spalla più vicina sulla diagonale per avere il conto bravo Dima si è passata sulla destra ma ci dico sì che si è passata quando poi lo stai diceva normale quando si apre non si apre diciamo se ne ho avuto io e quello che è eeeh di ma si ma mantagli di spazio chi ha le parole chi gioca dei palloni con chiamata vicino a l'uomo perché tutte le volte qui ci ha ebbiamo 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 è vero? tre un'altra un'altra una roba è una roba di merda qua tiene bene qua non devi chiamare quanto si riuscite a te se qualcuno gli fa esagerare era meglio una tre forse perché la palla è staccata palla no 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 la difesa è mia eh no ti rimando è mia la vedo mi è arrivata proprio così mi è arrivata proprio così mi è arrivata proprio così io io devo metterci le mani sì ok io ci devo metterle le mani rapido ma muro molto ah era io che no era cazzo ma si ferma perché passa sotto le spalle del cecca ma ti rimando ci si può dire attacca eh balla super dai 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 è posto oh via questa ti voglia dai che la prendo io vai a giocare dai che se no poi passa imboccati e qua come si come si come si si ecco non me lo faccio la allora è è bella 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 guardia ok incredibly ah è è buona parte Sì, guarda. Sì, guarda. Sì, guarda. Non devi esagerare, Gale. Serve apposta per aprirti gli spazi. Una volta che hai gli spazi aperti, anche se fai un brutto colpo standard, la palla casca, non c'è nessuno. Cioè, quindi quella palla lì che ti ha aperto e quell'altro che stava a cercare... Basta un lucco, anche tipo in mezzo è tutto questo. Volevo stoccare lì. Sì, verso la linea pirale che non c'è... Sì, una volta che si è aperto, basta. Sì, solo mettere la palla a cerco, ma per tagliare poi alla fine. Punteggi! Punteggi! Se me lo ricordo di prossima volta porto la punta. Per colpire la palla a destra per fare l'adeguolare fuoricorpo, per colpire qua per fare quello. Se la prendi fuoricorpo la palla va dritta invece che dell'albio in basso. Eh, palla. Oggi sei rispetto più per ragazzi in poli. Deve essere proprio toccata. Qui se ne sbaglio io cazzo mio. Palla. Poi se si tira proprio lui. Doppia. Buono, buono. Dico, si è entrato a cannone, ha battuto il muro. Ok? Perché ha battuto il muro? Ha aperto correttamente la recensione. Ok? Il muro si è apprezzato al centro di ritardo e lui vorrebbe attaccato senza punto. Ma tira di là di fronte a te. Il muro non c'è, il difenso è dal centro del campo. Cose semplici fatte bene, non inventarsi cose che non esistono. Buono. Vai, Ericko. Ericko dietro ce l'hai! Bravo! Bella Super. Non ci posso fare. peccato perché era molto bella come azione di gioco date il punto al fratello Capone per l'amore di Dio faremo finti di esserci lo dimenticati ho detto attacco, salto salta Gale, non rallentare doppia hai rallentato il salto ma finché fai questo non uscirò mai dritta maiale, tieni la più alta quella cazzo di palla visto che ci sei un'ora prima doppia fratello Capone è un po' sì è un po' molto doppia solo perché ha voluto girare i polsi è un po' difficile che soltanto fare questo l'ha chiamato lui la uno quindi in realtà basterebbe tenerla un tempo in più in aria se salti non alzarla ancora di più oh, devi chiudere l'avambraccio con il tricipite non il petto Dima, metti le mani parallele senza l'uso dei pollici tu continua a spingere così eh sì, finché fai questo finché fai quello non ce la potrei mai fare a paleggiare ma che devo arrivarsi sotto più fermo peccato per la doppia quindi dove ci arriva in movimento e con le braccia bassi no, è ruotato il medio e il pollice 0, 0, 0 di entrambe le mani ha fatto questo quando le ha spinta è fatto così oh, no vai a giocare sull'imbarco mia 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 prenditi ecco un'altra media grazie un po' lo ho saltato ormai che le altre l'ha in cattolica ragazzi se non ti mandare a andare anche quando uno non salta muore eh ma ha detto un cieca che era giusto che andassero di qua oh, ho messo la carota e andavo a 13 c'è detto un cieca che ha appeso le mani ai chiodi eh, come se ne sei hai fatto bene? valla palla è il cieca che ci ha mostrato come non si fa il palleggio mamma mia oh, ma che ti devo dire? doppia devi tenere le spalle rivolte sul palo quindi non ci sarà mai una fase dove rimani fermo tutte le volte dovrai ruotare in direzione per trovare il palo con i tuoi piedi non potrai usare il busto per addirizzarti perché quel punto è già doppia non c'è il muro ragazzi cosa pensate di giocare? L'unica cosa che ci sono è alti e lasciate senza muro. Non agitare quelle braccia che l'unica cosa che fai è cadere in terra. Questa è bella. Ci pensa il cecchia a lanciare le pietre da donna. Punteggio. Punteggio. E' troppo attaccata. Non c'era. Non lo so. Non ero proprio ben girato da sui te. Ma tu non sei molto affitto. Io ero un'ottomia. No ero stato fida. Adesso non ce l'avevo. Però mi va bene. Oh! Porca puttana! Possibilità di chiudere! E' giusto! Non serviva un cazzo! Non serviva quel palleggio! Vai! Palla! Doppia! Ma sei sotto la palla! Stai lontano per fare la rincorsa! Al massimo uso la rincorsa per avvicinarti per l'alzata! Braccio sotto il cappellino in occhio è un casino eh! Sono al match point! Dovete fare il possibile! Sono a venti! Mi piace! Stop! No! 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 No!